Quando ci passi a fianco, se ne va via da solo. Oh, c'è gente alla me. Davy Mu, vieni qua. Tieni, Davy Mu. Tieni, Davy Mu. Chi è che mi ha rubato il negro? No, Davy Mu, perché non parli? Oh, c'è gente qua dentro, raga. L'ho shotato, 95. Dai, mi ha aiutato. Dai, mi ha aiutato davvero questo. Oh, lo Scar chi l'ha pinzato? Ma vorrei ami qualcosa che è una mitraglietta grigia, sai. Grazie, Luca, mi hai portato la Scar. Oh, c'è gente qua. Gigi da. Eh, aspetta, sì sì, però. A terra. È qua. Le ho di fronte a est, a sinistra. Oh, c'è un altro full team qua di fronte a me. Ah, c'è un altro full team qua di fronte a me. Grazie a tutti. No, raga, mi hanno hitato con lancia granalata. Lou, sono morto. Perché mi devi infiulare? Sono tutti da me, ovvio che non c'è nessuno da te. No, 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 non c'è nessuno da te. No. No, non c'è nessuno da te. No, non c'è nessuno da te. zero. zero. Due pezzi possiamo mettere. No, non c'è nessuno da te. No, non c'è nessuno da me. No, non c'è nessuno da né arco. C'è un tipo qua, zitto. Sì 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 Sì